Fra i manoscritti conservati in archiginnasio ci sono diverse ricette di rimedi popolari contro il colera, come questa ricetta di pozione moltiuso a base di spirito di canfora, menta piperita, tintura asafetida, ammoniaca liquida, acetato morfino, che aveva lo scopo di tenere lontano il contagio. Ne viene data anche la posologia, si può aspirare se tenuta in tasca in bottiglia, prendere per bocca diluita in due cucchiai d'acqua, 10 o 15 gocce due volte al giorno, per frizionare l'addome in corrispondenza della bocca, dello stomaco e del basso ventre, per lavaggi in misura di circa 30 gocce unite a un decotto di camomilla. Anche in questo caso, se si pensa agli improbabili rimedi contro il coronavirus presenti sul web e rilanciati anche da un importante capo di stato, si possono trovare molte analogie con l'epidemia di colera del 1855. Poiché uno dei sintomi che accompagnavano l'esordio e lo sviluppo del colera era una inestinguibile sete causata dalla disidratazione procurata da diarrea e vomito, cui faceva seguito un desiderio vivissimo di acqua fredda con cui smorzare l'insopportabile arsura delle fauci e dell'esofago, furono pensati diversi rimedi rinfrescanti, quali limonate vegetali, aranciate, acidi minerali allungati alla gomma, l'albume d'uovo sciolto nell'acqua, il tamarindo, la magnesia, il citrato di magnesia e altre sali neutri, gli oli di ricino e di mandorle dolci.